arrivo non hai capito da dove esci hai capito dove siamo guarda sotto nel culetto del pupazzo di neve sta pure facendo cose ma che schifo ma che schifo ma vi sembra è natale sta digerendo e ragazzi come va io sono feriniki e io sono stef e questo gioco è roblox e ovviamente continuiamo la serie dei video natalizi con due escape su roblox che siamo credo dei folletti perché dall'aspetto degli elfi folletti sicuramente infatti è fantastico che appena entri ti cambia pure i vestiti iniziamo subito ma che cos'è questa partita ok con i pinguini non ci puoi andare ci ho già provato pure io guarda non ci puoi andare non puoi mettermi aia dove sei finito? è finito lontanissimo ma che bellino questo posto guarda che bello dove dobbiamo entrare ma è troppo bellino va bene andiamo 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 si aprono le porte ok vabbè si deve iniziare noi qua volevamo festeggiare un po' il natale invece dobbiamo subito stare attenti è morto il guest andiamo non so come perché ha semplicemente saltato ha saltato sulla tua schiena quello è il problema esatto al massimo la mia schiena è radiattiva non lo so e dobbiamo saltare di qui e si muove uh ma ci sono i pacchetti regalo penso che li devi schivare si perché altrimenti caschi di sotto vedi ci sono accorso incontro e infatti ti fanno morire ti fanno morire lo so che tu vedi i pacchetti regali sono andato così ad acchiapparli ma in questo escape essendo un escape ti uccidono i regali ti uccidono sono andato ad acchiapparli proprio ad abbracciarli e mi hanno ammazzato ce l'ho fatta aspetta per pochissimo sono ancora in difficoltà vai vado ce la puoi fare vado mi ho aiutante elfo ce la puoi fare andiamo andiamo elfo pirata elfo pirata specifica sempre è molto importante uh dove siamo ah questo è un posto bellissimo sembra riciclato da candyland che avevamo fatto e vabbè però è bellissimo lo stesso ci sta perché ci sono i biscotti i vari biscotti natalizi andiamo anche questi uccidono spero di no spero di no tutte le cose di natale in questo momento ci stanno uccidendo non è proprio la mappa adatta al natale però o no è il fatto è che non ce ne sono altre la verità quest'anno su roblox non si dice non è che ce ne siano molte a tema quindi ci si deve accontentare ascolta è lo stesso di quella della gioielleria l'ho riconosciuto da questo cartellone che c'è questo tizio ma li fai tutti tu allora cioè mi sa che lo contattiamo ci facciamo fare un po' di escape ci facciamo fare la two players one console escape praticamente c'è uno schermo con un nostro video e la gente deve scappare perché il video ti insegue esatto e nessuno li guarderà mai più dopo che fanno quell'escape non ti guarderanno più però sarebbe una mappa bellissima sarebbe bellissima ma siamo usciti dalla casa di babbo natale ma siamo usciti da un igloo se tu puoi controlli sei uscito dall'igloo è bellissimo e babbo natale vive lì dentro eh sì andiamo 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 tu hai uno ghiacciato lì poveraccio quella è la tua fine se cadi eh esatto quindi stai molto attenta perché non voglio finire ghiacciato comunque secondo me questo escape ha un senso ovvero babbo natale si è arrabbiato perché nessuno ha fatto da bravo quindi capito se la sta prendendo con gli elfi secondo me sì ma perché sfogarsi sugli elfi eh altrimenti con chi si sfoga scusami con la befana eh anche tu hai ragione eh capito la befana è meglio esatto perché la befana dà dolci a prescindere invece lui deve selezionare quindi secondo me è un po' arrabbiato no anche la befana dà il carbone no dai dolci la befana dai ma dal carbone dà il carbone di zucchero quindi un dolce no 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 ma qua ci possiamo entrare che ci fai lì dentro boh la mia nuova casetta muoviti va bene va bene non ti piaceva la mia casetta questo è difficile qua si scivola molto si scivola molto io non mi aspettavo di scivolare proprio così dita è perché è tutto ghiacciato no non hai preso il checkpoint no cioè ma ti devi togliere tu ma tutta la mappa mi spinge ah no ok dai non è troppa torno subito eccomi ecco ti ti vedo sono pronto a provare il livello ghiacciato vai vai ui fai attenzione è difficile ui ok no ti vedo vedo gente che cade dietro di te mamma mia ma quello è difficilissimo aiuto fermo e lo so quello devi fare così perché se no non ci arrivi uff fatto ecco ti ok eccomi eccomi premiti checkpoint stavolta su non ti dimenticare non c'è bisogno di ricordare ciò che ho sbagliato dove dobbiamo andare qui sopra adesso dobbiamo salire tutto questo posto però anche questo posto mi sa che è scivoloso cosa dobbiamo fare dice di stare nel bot no no la facciamo insieme allora andiamo con lui no no vieni qua vieni qua facciami insieme quello lì è pericoloso non so chi sia ma è pericoloso è un consolino è un consolino quindi non può essere pericoloso allora va bene per quello ti ho detto andiamo allora guida tu vai ok sali ci mettiamo tutti e tre aspetta vai vai è terribile stiamo facendo le capriole ma come guido non posso non posso guidare in nessun modo dici che siamo arrivati sono i salvi e che va bene questa via sì credo perfetto c'è un pupazzo di natale oh è cattivissimo è cattivissimo te l'ho detto aspetta oh mamma mia ti risucchia ma ti mangia c'è proprio babbo natale qua vince e ti mangia ma è strana sta mappa è molto strana è molto molto strana andiamo dovrebbe essere tutto allegro e coccoloso a natale invece è tutto stranquietante qua non so perché non so perché secondo me comunque ci sta bene è una mappa dove saltiamo tanto così anche i consolini solo guardando il video digeriscono un po' il pranzo hai ragione hai ragione quindi almeno secondo me ti costringono a fare un po' di moto quindi va bene è importante perché lo sai che cosa so aiuto preparati a saltare sono morta te la faccio in un colpo solo sei pronta vai sei pronta vai va Steph attenzione curva rigira arriva ok ok e vabbè vedi quella curva ok capito come fai a frenare ma però non ho capito perché se vede la piattaforma vai dritto prova a guardarmi di nuovo vai ok ta 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 andiamo qua andiamo qua e andiamo così ok e poi però eh vedi poi devi fare quello è lunghi no vabbè è lunghissimo qui dove sono io è la metà è lunghissimo esatto sarà difficile ma è impazzito che digerire il pranzo di natale ma fare una roba così complicata eh vabbè certo perché mangi molto mi sembra giusto almeno ci divertiamo giusti ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta avanza Steph ce la vuole fare Steph ce la vuole fare dimmi che l'hai finita cosa e vabbè almeno l'hai preso dimmi che ho preso il checkpoint dimmi che mi hai preso il checkpoint dimmi che mi hai preso sì ok ok tutto a posto dai che ci arrivi no aiuto aiuto dai dai non lo so se l'ho preso penso di no penso di no dai speriamo di sì aiuto spero di sì no non me l'ha preso no però ce l'ho arrivata cioè mi hai visto no ma io non ci credo ma che sfortuna uffa ti aspetto andiamo ce l'ho fatta andiamo ahahahah uno è arrivata a massima velocità c'è entrato il consolino e l'ha fatto morire insieme a noi ma povero ma povero ok tutti i tronchi sono e trasparenti ah ok ok devi trovare quello solido perfetto non so se funziona il solito giochetto con la telecamera perché i tronchi sono diversi ma il consolino sta andando dritto per diritto quindi destra sinistra e adesso sfruttiamo i consolini dove vai il consolino centrale bravo 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 bravissimo grazie grazie per il passaggio ok adesso un po' di saltini classici siamo tornati alla normalità dai dopo la slitta e quel parkour estremo siamo tornati a delle cose abbastanza normali sì mi ho un po' scioccato non mi aspettavo queste cose così complicate capito ma fanno sudare queste escape e ha deciso di farlo molto complicato anche perché comunque già in quello della gioielleria c'era qualche livello molto difficile quindi proprio lui si diverte a farti impazzire no ma è meglio dai divertente così almeno vedi questo non l'avamo mai beccato in un escape o una cosa del genere almeno trovi anche i livelli che non abbiamo visto prima esatto ci fa divertire un sacco questo ghiaccio non è molto scivoloso poi si va nelle palle di neve però ora siamo tornati in delle cose abbastanza semplici però non capisco dove ci stiamo avventurando adesso arrivo non hai capito da dove esci hai capito dove siamo guarda sotto nel culetto del pupazzo di neve esatto sta pure facendo cose molto puzzolenti fa schifissimo ma che schifo ma vi sembra è Natale sta digerendo è anche lui per il pranzo giustamente la cena per il pranzo quindi digestione un po' lenta dobbiamo scappare dalla montagna adesso ci sarà una specie di monte Everest è tutto molto innevato c'è da fare un bel po' di salti è finito è finito non riesco a saltare dai che ce la puoi fare non finirò mai te lo dico rimarrò qui per sempre non finirò mai have merry christmas grazie buon Natale allora qua cosa c'è c'è un no aspetta aspetta dimmi ce l'hai fatta si brava eccomi eccomi andiamo finalmente è finito aspetta 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 devo prenderlo io questo è il regalo migliore questo è il regalo migliore preso allora dove sono i pacchetti i pacchetti regalo questi sono sono i regali qua tu ci vai sopra e ti prendi le varie cose ok cosa ho preso non l'ho capito a che serve dovrebbe essere un carry on ma non funziona esatto cosa mi è successo è un po' schifo no sono entrato dentro una montagna no allora è super bagato eh ma perché ma ok ma tutti a me stanno capitando i bug aspetta qua c'è il reset non funziona neanche il reset c'è l'acqua davvero sono qua per sempre sono qua per sempre rimarrai nella montagna per sempre va bene comunque proviamo al volo un altro escape che dovrebbe essere un po' più bruttino ma sempre natalizio andiamo al volo a vedere come e vediamo vabbè iniziamo si 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 grazie merry christmas everyone oh qui finalmente c'è un babbo natale sano di mente quindi deve essere un po' più tranquillo e partiamo sopra una renna che ci passiamo attraverso e prendiamo su delle slitte diciamo che anche qua non è proprio un posto normale normale ah ma c'è un babbo natale gigante lì a destra oh ok e vabbè ma proprio è un po' esagerato però dai almeno è carino perché comunque ma c'è un babbo natale ad ogni livello ah 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 allora aspetta questo babbo natale i gentili che ti danno consigli guarda che la conosciamo come funziona eh mica ci freghi qua rosso no però questo non vale dobbiamo azzeccare la scala quindi verde quindi verde verde e facciamo rossa no ok allora verde 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 per ora verde 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 e l'ultima è rossa aspetta sì ok ok per fregarti capito non ci credo è una presa in giro questo escape perché eh sali 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 l'ultima è rossa sali ah 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 è bello grande se te zoom è pure bello grande se è tutto a scegliere la strada giusta siamo fregati no dai allora viola vai no blu 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 e viola vai su levati ah no questo è proprio morto qua sì è un ostacolo aggiuntivo no vabbè io sto impazzendo allora aspetta guest ti odio ah 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 neanche per natale si è gentili con i guest perché mi fate questo sei in mezzo alle scatole e neanche lo capisci ti devi togliere chiunque tu sia è appena schiattato ma è fighissimo questo questo è il primo livello interessante opla ok opla 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 e sei morto opla no opla opla ce la fai davvero il primo colpo mamma mia sì ce l'ho fatta ce l'ho fatta oggi è in forma il natale le dà delle forze che di solito non ha comunque una tipologia di salto che non avevamo mai visto quando sono originali mi piacciono un sacco pronto oh ma c'è un scivolo ci scivola e adesso che fai no cioè ci incastriamo non si può continuare o cosa eeeh aspetta scalo davvero non fa davvero è buggato l'escape e finisce così aspetta che ci riprovo io ci sto riprovando da 5 minuti no ma cioè dai ci stavo prendendo gusto stavo iniziando a pensare dai forse questo escape alla fine è bellino e mi fai il livello che si flippa davvero non è giusto davvero non è giusto non è giusto cioè era ancora lunghissimo c'era un sacco di cose da provare cioè non c'è modo guarda io sto provando di tutto non c'è davvero modo non c'è proprio modo non saprei come come completarlo anche perché se vai qui sotto poi non puoi mica risalire dal castello sono tristissimo impossibile vabbè direi che ci fermiamo così ha deciso questo escape che non possiamo finirlo ci dobbiamo arrangiare così comunque speriamo che vi sia piaciuto speriamo di avervi tenuto compagnia per capodanno facciamo qualche video strano non mi viene in mente nulla per capodanno no sarebbe una bella idea però non avrei idea cioè possiamo pensarci ok così magari ci possono consigliare qualcosa magari compriamo tipo gli scintillini ci mettiamo dieci minuti con i scintillini e bruciamo i computer eh esatto la casa e moriamo almeno sarebbe epico sì chiudiamo col botto il 2016 esatto esatto perché se ci riesce così se ci riesce a 16 me like questa è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao e alla prossima ciao ciao ciao